Mi chiedo di parlare. Il senatore Ciriani ne ha facoltà. Sì, grazie, Presidente. Colleghi, colleghi del Governo, Presidente Draghi, il gruppo di Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al suo Governo e non la voterà ancora in maniera più convinta dopo aver ascoltato la sua relazione e la sua replica, che noi consideriamo molto vaghe, molto generiche e addirittura sfuggenti. Noi abbiamo segnalato una serie di argomenti per noi importanti nel corso delle consultazioni, ma non abbiamo ricevuto una sola risposta nel merito. Non sul tema dell'immigrazione, niente sul tema della sicurezza, né sul tema della giustizia, nessun riferimento alla web tax, a cosa sarà del reddito di cittadinanza che costa 8 miliardi di euro, a cosa faremo per le assunzioni, visto che c'è un decreto di dignità che paralizza e ingessa il mondo del lavoro. Nulla sul tema drammatico del ristori all'impresa. E quindi, vede, Presidente, la nostra non è una scelta per ripicca o per spirito di contraddizione o, come qualcuno ha detto, scioccamente per scegliere la strada più facile. E' vero esattamente il contrario. Noi scegliamo la strada più difficile, tanto è vero che la percorriamo da soli o quasi. E' la strada che abbiamo scelto, Presidente, è la strada della coerenza. Della coerenza verso noi stessi, innanzitutto, e della coerenza nei confronti degli elettori. Perché noi, Presidente Draghi, lei probabilmente non lo sa, circa tre anni fa, come adesso, abbiamo sottoscritto un patto con i nostri elettori e con i cittadini. E in quel patto c'era scritto che noi ci saremmo impegnati a creare un'alternativa di centrodestra. E quindi mai al Governo con il PD, mai con i Cinque Stelle. E glielo voglio ricordare anche in riferimento ad alcuni passaggi del suo intervento che ho qui con me, in cui lei cita lo spirito repubblicano e i valori migliori dell'Italia. Beh, noi crediamo che lo spirito repubblicano e i valori migliori di questo Paese si costruiscono innanzitutto dicendo e ribadendo in quest'Aula che nella vita, come in politica, le promesse si mantengono e la parola data va onorata. Sempre costi quel che costi. E noi non pretendiamo che gli avversari ci applaudano per questa nostra decisione. Non chiediamo il consenso di nessuno, ognuno fa le sue scelte e tutte sono scelte legittime. Però il rispetto è quello che crediamo di essercelo meritato, perché vede in un panorama politico in cui i partiti e i leader dicono lunedì una cosa, martedì un'altra cosa, mercoledì una cosa ancora diversa e così via per tutti i giorni, esiste un partito e una leader che semplicemente tiene il punto. Non si vende e non si fa comprare, non mercanteggia con nessuno, non ricatta nessuno, semplicemente agisce e lavora alla luce del sole, come siamo abituati a fare. Noi siamo la destra di governo, siamo orgogliosamente forza di governo in molte regioni, in tantissimi comuni, lo siamo in Europa, dove siamo inseriti nel gruppo dei conservatori europei, la nostra Presidente è anche Presidente del gruppo del Partito Conservatore europeo. Però noi non siamo destra di governo con qualsiasi governo e a qualsiasi costo, perché noi siamo convinti, siamo veramente convinti, che governare con gruppi e con persone che non hanno idee diverse da noi, ma idee opposte da noi, non solo sia un tradimento della coerenza, ma sia anche sbagliato, inutile e alla fine dannoso, dannoso per il Paese. La nostra richiesta era e rimane quella di elezioni, elezioni subito. E non mi si venga a dire che chiedere elezioni è un gesto di irresponsabilità, perché in democrazia restituire la parola ai cittadini non è mai sbagliato, non è mai sbagliato. E adesso noi avremmo un governo forte e coeso, auspicabilmente per noi un governo di centro-destra, con la differenza che quel governo sarebbe stato votato dai cittadini, votato e scelto dai cittadini. Oppure c'è qualcuno, soprattutto tra i banchi del centro-sinistra, che dà sempre elezioni di democrazia, che pensa che l'appello alla responsabilità voglia dire un Parlamento senza opposizioni, un Parlamento senza voci libere, un Parlamento senza voci critiche, senza voci di dissenso. Io ho ascoltato con queste orecchie, nell'estate del 2019 e poi nel dicembre scorso, i parlamentari della sinistra a gridare attenzione ai pieni poteri, fosse Salvini o fosse Conte. Invece adesso non c'è nessuno che si preoccupa per un Parlamento composto soltanto da mille signorsi. Noi ci prendiamo questo incarico gravoso di rappresentare l'opposizione in questo Paese, che è importante quanto chi governa. Poi ci sono gli intelligentoni che ci spiegano, ci spiegano ogni giorno dai giornali, in televisione, che questa è la politica, perché la politica è l'arte del possibile. Certo, l'arte del possibile, non l'arte dell'impossibile, perché nemmeno la politica può trasformare gli opposti in uguali. E noi ne abbiamo avuto la dimostrazione in questa legislatura, Presidente Draghi, prima col tentativo contro natura di un'alleanza giallo-verde finita male, e poi l'alleanza giallo-rossa finita anche peggio, nella vergogna del Senato trasformato in un mercato. E allora adesso ci volete spiegare che la somma di questi fallimenti rappresenta un'alternativa credibile per questo Paese. E poi ci spiegate anche che però, attenzione, questo è un governo tecnico, è un governo istituzionale, è un'altra natura. La realtà, la verità, che conosciamo tutti è che esistono soltanto governi politici. E anche questo è un governo politico, come tutti gli altri, talmente politico, che abbiamo visto le discussioni tra i partiti, per indicare i ministri. Abbiamo visto un nuovo governo composto da tante facce vecchie, in continuità con il Conte II, tanto da somigliare a un Conte Ter, in cui questo governo, c'è una forza politica, il PD, e la sinistra nel suo complesso, che è detta le regole, che ha le chiavi di questa maggioranza, e che controlla direttamente o indirettamente sei ministeri importantissimi di spesa. Ed è talmente vero che questa è stata una scelta politica, che se avete un minimo di onestà intellettuale dovrete confessare che l'entusiasmo generale che si viveva qualche settimana fa rispetto a un Draghi che formava il governo dei migliori, il Dream Team, si è trasformato velocemente in coccente delusione. In coccente delusione. Si dice anche che però adesso si tratta di essere seri, di essere responsabili, che noi non possiamo sottrarci perché c'è da salvare l'Italia. Ma scusate, voi volete salvare l'Italia con coloro che l'hanno affossata? Con coloro che l'hanno portata sul baratro? Con coloro che hanno speso 150 miliardi di euro e ancora non sono riusciti a ristituare intere filiere produttive? Presidente Draghi, mi lasci fare questa considerazione che sembra provocatoria, ma non lo è. Io mi aspettavo che in un'ora di intervento le trovasse almeno 30 secondi per ricordare la disperazione degli imprenditori della montagna, che sono in ginocchio, che non vedono una lira da un anno e ai quali voi avete detto aprite con regole molto severe e poi a quattro ore dell'avvio degli impianti e delle salite avete detto scusate, stiamo scherzando. Volevo sentire da lei e dal suo governo parole chiare perché qui non si tratta più di ristore, qui si tratta di indennizzare dei danni che voi avete provocato a queste categorie economiche che rimangono, ripeto, nella disperazione e il disinteresse pare anche del governo. Ho quasi finito, Presidente, quindi mi devo avviare alla fine. Voglio solo dire che tra le tante cose che non condivido c'è la gestione della sanità e voglio fare io un appello a lei, bipartisan. È possibile che su 60 milioni di italiani non ci sia uno migliore dell'ineffabile commissario Arcuri? L'inventore dei padiglioni Primula, il massimo esperto in spreco di denaro pubblico, quello che si occupa di tutto sbagliando tutto. Ho finito, Presidente, vado alla conclusione perché il tempo è trascorso. Noi saremo su sponde diverse e cercheremo da sponde diverse comunque di aiutare il nostro Paese. Non saremo un'opposizione servile, avremo la schina dritta, saremo un'opposizione patriottica, senza pregiudizi e mi creda del tutto disinteressata. Per molte ragioni, molte delle quali in più non ho avuto il tempo di dire, saremo convintamente all'opposizione del suo governo, ma non saremo mai all'opposizione degli interessi dell'Italia.